Cesar una partita tutt'altro che facile, preparata bene però dall'inizio? Sì, abbiamo preparato questa partita già pensando che era una finale perché abbiamo lasciato passare due punti in casa importantissimi la settimana scorsa e oggi abbiamo venuto a un campo difficile perché era difficilissima questa partita e abbiamo preso questi tre punti che sono importantissimi per noi. Una partita è decisa nel primo tempo, nel secondo tempo c'è stato un pochino più di equilibrio ed è arrivato di nuovo il tuo primo gol. Sì, è normale, abbiamo detto di partire forte perché dovevamo mettere la partita a favore nostro subito perché sapevamo che era un campo difficile, che si poteva giocare poco e l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatta alla grande e adesso pensiamo a mercoledì che è un'altra finale importantissima contro una squadra che è molto forte e adesso da domani già si parte a allenarci forte per mercoledì. Perché non sarà una partita come le altre, no? Visto che sei un ex del Palermo. Sì, no, ce l'ho tanti amici, i magazzinieri, tutti lì, è una partita come le altre, dai, perché adesso sono alla Ternana e ho lasciato un bel ricordo lì a Palermo ma ci penso adesso alla Ternana e pensiamo solo a vincere mercoledì. Grazie a tutti! Grazie a tutti!